Bella a tutti ragazzi, sono Sabasax 1 e bella della 14esima parte e 13esima palle game della naslock su pokemon rosso fuoco e verde foglia Ciao a tutti ragazzi, quindi siamo subito con mostrarvi team Io ho talpa alliello 45 perchè l'ho rimesso in squadra perchè comunque avere 2 dragonair non mi sembrava tanto diverso quindi ho messo talpa Ho 9 god alliello 43 con sempre lo stesso moveset Ho trisauro alliello 42 sempre con lo stesso moveset Ho multiforme alliello 47 che gli ho fatto imparare geloraggio e surf Poi ho piccione che non ha imparato niente rispetto all'ultimo episodio Ho Jackie Chan sempre con queste mosse di pugno che comunque c'è Ah si tu c'hai quello dei pugni è vero Vattene prima che arrivi quello che si diverte tirando calci Citazioni famose delle prime parti Allora io ho Express al 44 con geloraggio, corpo scontro, surf e pioggia danza Mario al 43 con le stesse mosse, blaze non l'ho toccato Shulong al 44 e non impara niente finchè non diventa un bellissimo dragonite Shimmy al 44 che voleva imparare il bullo ma li l'ho bloccata E Snorlax al 45 che voleva imparare tipo supplica Però anche quella li l'ho bloccata E boh possiamo entrare? Sì Allora qui la guida non ci dice niente di che Dobbiamo fare i quiz mi pare No boh fa o i quiz oppure combatti direttamente Rispondi giusto e si aprirà la porta della prossima stanza Ma se la risposta è sbagliata dovrai vedertela con l'allenatore Se vuoi tenerti i pokemon per il capopalestra Puntini, puntini, puntini Allora rispondi bene su forza Caterpie diventa Metapod Sì sì Già fatto tu il primo test Da mo' io sto al penultimo Quiz Pokemon Rispondi giusto? Sì sì La stessa frase no dai Sono nove le medaglie ufficiali? No Avanti Poi Pietra tombale Ma che cazzo? Poligoi che si evolve tre volte No No perché non esiste ancora Poligoi Hei sono Blaine il capopalestra dell'isola Cannella I miei pokemon inceriranno ogni sfidante Volevo l'affrontassimo assieme Procurati l'antiscottatura Oddio mi sono bruciato Dannata spiaggia Ed ecco il suo growlith Volevo l'affrontassimo assieme Vabbè tanto da due secondi lo fai pure tu Metti là ecco Allora Se vuoi tenere Fuoco Cioè ogni pokemon Che ha Ha un fottuto fuoco bomba Cioè Eh perché poi mi pare fosse le mette che ti da Bonita Fuoco bomba pure lui È vero che i pokemon dello stesso livello Non sono comunque identici Sì è vero Talpa a livello 46 Ed ecco Rapidash Tanto su più forte È Arcanine Allora La MT28 contiene pietra tombale No Neanche esiste come mossa No ma che palle Senza farlo apposto Ogni volta lo clicco due volte E mi rifa lo stesso test No Porco Nonna Ok Anch'io sono contro Blaze Vabbè il test l'hai già detto tu Vabbè dice poche cose Si comincio anche io Tu probabilmente avrai già finito No Io sto a Rabi Lascia Ok Vabbè prendi un po' di tempo Surf sul primo Growlite Che non dovrebbe dar problemi I problemi lo darà Gli darà Arcanine Cioè Rapidash Pomo stronzo Bonita Eccolo Arcanine A livello 47 Bonita al 40 Allora 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 Io sono su Rapidash Multiforme È un grande Fuoco bomba su Express Leva 50 PS Dai Leva 50 PS Dai neanche tanta Contanto Quello Ehi La medaglia Volcano migliora le statistiche speciali dei tuoi Pokémon Prendi anche questo Fuoco bomba è la massima tecnica del fuoco Mi l'ho sprecata Su Pomo TV Acqua Grazie E ho ricevuto E ho ricevuto La mia settima medaglia Eeeh Vai Oh ciao Bill Ehi Ma tu non sei Sal Non mi riconosci Sono Bill Sono il Clefferi Che ti ha chiamato Diavolo Ne è passato del tempo eh Tu sei sempre il mio DC Vero Passiamo un po' di tempo insieme Ti va? Un mio amico mi ha inviato a Prima Isola Un'isola a Sud Contro Arcanine Non so se continuo ad Express Perché ho messo un po' maluccio Mando Snorlax Snorlax Ora usa Zuffa Bah Avrà solo fuoco bomba extra rapido No però mi ha invito l'attacco Ok allora curo Curo cose e basta Ehi Celio Bill Non posso credere che tu sia finito fino qui Alla fine ce l'ho fatta Hai visto? Come fanno le ricerche? Eeeh Aspetta un attimo Ti è presente il mio amico Celio? E' un grande esperto di PC Celio ti presento Sal Viene tra presto campione di Pokémon Già lo so bro Ah davvero? Complimenti Me ne vergogni un po' Ma sono proprio una frana a lottare Richie conoscerti Deficiente Stai buono Questo va di riduttore a Gogo Riduttore? Sì Sul mio Snorlax Ma è tua che lasso spesso? Sì Oh dammi un'altra po' Eh bravo grazie Boh gli ha fallito riduttore Corpo scontro Boom Riduttore resistilo Uh Mi ha fatto brutto colpo Eh vuoi sapere È rimasto con 4 PS 4 PS La seconda volta che lo ririschio Snorlax Non lo mando più in campo Comunque ho vinto Però L'ho di nuovo rischiato Cioè non è possibile Lo rischi sempre Aveva 106 PS Ho detto non lo curo Tanto vedevo che me ne levavo a 40 Eh Brutto colpo me lo manda a 4 cosi Sì lo so Continua in fuoco bomba Charmiglione e Wulgulpix sono i più adatti Ma se io ho Charizard Perché devo trovare i revitalizzanti Se poi non mi serviranno per niente Cioè Diventi Sì però prima vorrei curare i Pokémon Vabbè li curo lì Che fine ho fatto Lisetta Perché hai dato tanto Ogni giorno a quest'ora Mi porta il pranzo Ehi tu Conosci Lisetta L'hai per caso vista in giro? Dovrebbe già essere qui da molto tempo Chissà dove stai cacciata Lisetta ha un aspetto così indifeso Non vorrei che le fosse successo qualcosa Aiutami a trovarla Ti prego Vai a cercare la testa isola Ma l'importo è acido Quest'arena gioca è davvero deprimente E io sono figli alti Dobbiamo vederci qui A testa isola Vaffanculo va A me non te le palle Si è pure sbagliato Pensa un po' Con la trama questa cosa Non ha molto senso Siamo più che altro Per sbloccare YouTube Ma io neanche me la so ricordare La stessa delle isole Io mi ricordavo Che serviva per YouTube Bene Il poco scafo 2 In partenza Tutti a bordo Yeah Bitch Tu quindi ora dove vai? Sei già nella terza? Si Allora Dove combattere tutti Siamo 12 cristi da merda Arena giochi Ok devo andare nell'arena giochi E dargli un meteorite Allora Prima fammi curare sti Pokémon Ehi tu Te la smetti di fissarci Non sai che non è educato Hai per caso intenzione di sfidarci? Si Bitch Hade tutti i wheezing Basta darmi cose Ok Fammi curare sti Pokémon Madonna Che ho rischiato Snorlax con 4 PS Se mi moriva di nuovo Non ne avevo più Cioè ma io dico no Ma perché lei usa sempre mosse Che fanno Ci hanno Fanno abbassare la La precisione Qual è il senso di questa cosa? Allora Dove sta Lo scafo? Ah Credo sia qua Quindi andiamo in seconda isola Bene Ehi partenza Po che scafo? Quindi Ora dobbiamo andare Nell'arena giochi Che si trova qua E questo qua Dirà la stessa cosa Che appena letto Sì Lisetta Che bei nomi Lisetta? Sì Hanno mancato una prima sillaba però Così a caso Entra uno con la moto Eh Perché si è sbagliato Perché diceva Doveva incontrare amici su A terza isola Quando sta in seconda isola E mi mette sotto Cioè Pieno male che io mi sono spostato All'ultimo Cioè Te paralizzavo le gambe No Quindi ora devo andare in terza isola Sì Io sto combattendo Conto sti deficienti Biciclettari del merda Cioè C'hanno tutti i Grimer Coffing Una rottura Voglio andare a terza isola No Porco Cioè io devo combattere tutti Ma che palle Beh ora lo dovrò fare anch'io credo È una tortura Terza isola Ma che cifo Cos'è quella grotta Che c'è prima di terza isola? Non lo so Però è un encounter Forse Non lo so Via terza Ah non c'è solo un uomo Ciao come va Vuoi sapere cosa ci faccio qui? Beh cerco loro Quando non avrò trovato abbastanza Comprerò casa accanto Può è un qualcosotto di vuoto E non credo ci riesca Ma Porto terza isola Oddio Quanto Ma perché Wheezing devono avere quella fottuta Dannata Autodistruzione Ah no Che Vabbè ti ha distrutto qualcuno No Cioè mi ha messo a rosso Però neanche mi ha uscito Adesso dico tardi Fate gli sbruffoni Solo perché siete in gruppo E tu Aspetti di fissarci No Vabbè stai là tanto Stai da me Sì Cosa mai ci troverai in questi morti di sonno? Una morte Coffing Allora io c'ho ancora Express Perché non gli ho insegnato psichico Vabbè Surf credo lo uccida Aspetta chi è Express? Labras Ah giusto Abbiamo battuto la quinta palestra Con i coffing ancora più forti Batteremo anche loro Surf Stavo anshottando un po' tutti No Grimer Scudo acido Meno male che non l'ha fatto minimizzato Perché altrimenti giuro che Aspetta ce l'ho dei cosi No Ho battuto un centauro Devo prendere i pellenti va Perché nella foresta Non male De sprega tempo Ma quanti eventi Ho bisogno di ospitare? Tutti Tutti e sei? Sì No No Stai scherzando Eh quello che ho appena fatto invece No Ma dai Non è vero Io sono solo al secondo È la verità Oh Guarda Guarda come ti scaldi per una misera vittoria Sì mi scaldo Ok questo è il terzo Fanno un inferno Ma cosa ci fa un ragno nel mio schermo? Un ragno no? Sì Ok Un fotuto ragno Voi mette un po' trisaur Perché è un po' che non lo uso Quindi Però sembrerebbe morto No è vivo È vivo Però è piccolino dai È lì che sta guardando Abbiamo già una visualizzazione Ovviamente voi non lo vedrete perché È appoggiato Si sta un po' muovendo Ma vabbè lasciamo stare Questo è il quarto Non è mica devo fruttare tutti e sei No 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 Ma poi mi seguito Cioè Altro che lega pokemon No wheezing No no Aspetta di un'autodistruzione Te lo dico subito No 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 Uccidilo 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 Niente da fare Muro di fumo No ma ancora preferivo autodistruzione Te lo giuro Ok non ho fallito Surf Suit che io Autodistruzione Morto Alapas Eccolo Mark No ma dai ma tu sei un incubo Ecco mi è fallito surf No ma dovevo switchare Autodistruzione No ma cavo Io adesso che ci penso C'ho Shulong con Però non so se ha così tante difese Si ne ha dai Che c'ha Ondashock e Aeroassalto O forse solo No minimizzato Stavolta ti frego io Mi dispiace Vado di Ondashock Non farà molto Ondashock Adesso che ci penso Però ecco Mini leva un sedicesimo E lui continua di minimizzato Bosco Baccoso Poi io questa qua Ne avrò fino alla fine Tu avrai finito tutto Io sarò ancora qua Il Bosco Baccoso Cioè pensa un po' Ho messo Aeroassalto a Blade Quindi cambiamo in Blade Weeping Struiti io Già ce l'ho No sei veramente cattivissimo Ma lì puoi fare un primo encounter Sì Nelle seconde isole Trovi i Pokémon di seconda generazione Preso un Drausi Sto prendendo Lui ha fatto Ha fatto scudo Due volte scudo acido Tre volte minimizzato Mi ha fatto fango E mi ha avvelenato Poco insomma Intanto io sto prendendo Il mio encounter Qua al bosco Eh io qui ne avrò Mi manca veramente Uno che odio Mi ha fatto passare Peggio incubi Sto mostro Io ti drago Vero che può fallire Non lo so Troviamo Sì Ok Ho catturato il mio Drausi Il futuro Hypno Quindi lo chiamerò Ora te lo dico No che palle No non ci credo Mi ha avvelenato anche Shulong Però Quanto fango Quanto probabilità Di avvelenare Tanto c'hai muta Quindi dopo Ti se leva pure Eh ma non è sicuro Poi muoio Due colpi Ok ho aggiunto In pedofilo Un pedofilo Ai vivi No non ci credo Mac veramente Lo odio Da quando esiste Peccato che esista allora Eh peccato che Muta non si è levata Cioè Il veleno Non si è levato No ma io non ci posso credere Questo I Mac Quanto sono odiosi Vero che non me ne ritroverò più Di Mac No ci dovrai sempre O troppo E contro un aspetta Chi No nessuno No perché veramente Qua rischio pure Shulong Sto rischiando Comunque Aiuto Aiuto Prima è arrivato Un pokemon spaventoso Ora ho tanta paura Che non posso muovermi Eh Puoi metterlo anche te Shulong Se vuoi Cosa Mi è morto Oh Stanno a morire tutti Eh non è colpa mia Se fango riesce a Levarmi tutta la vita In un colpo solo Con noi ansie Quindi sono tre morti Tutta me l'ha levata Tutta non ci credo Ma ora ho tanta paura Che non posso muovermi Ma voglio andare a casa Ecco ritorna No no Via via Voglio il mio papino Cosa stai dicendo È quello che sta a dire Ragazzina Ecco il pedofilo Ecco il pedofilo Ecco il pedofilo Ecco il pedofilo Posso rischiare di nuovo Snorlax Ecco il pedofilo Pokémon Grazie mi sei affata Sto cercando bacche Ecco prendi la bacca Maia Come ti chiami Ho ancora paura Paggo mamma Nel mio papino Grazie No Meno male Meno male Meno male Meno male Allora C'era Mac a vita rossa Eh Io avevo Blades A vita rossa avvelenato Ho fatto Aerossato Pensando di ucciderlo E non l'ho ucciso Ho detto Mo mi va di acido E mi muore Blades Per fortuna Ha fatto minimizzato E mi andava per acido Se hai potuto No 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 E ora si L'ho uccido Dai Si no ma che incubo E mi è morto pure Cavolo Dragonhead Mi poteva far vincere Tutta la lega Solo lui Ehi Sal Ce ne hai messo di tempo Hai fatto un bel giro Ce l'abbiamo fatto Il PC funziona perfettamente No Non ci credo ancora Tu a che punto stai? Eh Sono Partuto uno dei tanti Zucca pelata Oddio No ma non ci credo Era strautile Dragonite Con doi ansie Si ma dai Mi ha levato Tutta la Infatti ti ricordi Quando ho detto Shulong Lo metto però Non essendo ancora evoluto Lo rischio troppo Infatti l'ho rischiato Io Anche perché Muta non ha Non ha funzionato Eh si Senza farla apposta L'ho rivitalizzato Con il centro pokemon Per ora Lo metto nel box No No dai Con noi ansie bro Si ma lui Se mi fosse morto un wild plum Non me la sarei presa Eh perché tanto era wild plum però Però mi serviva troppo Poi con tutti i soldi che ho speso Cioè un tipo drago Mi serviva troppo Anche contro l'ansie Contro tutti E ford Ma scusa Dragonite non è l'unico tipo drago Eh si Boh chi metterò Allora qua sono già tre morti Perfetto direi Qui c'è un raior Che però è scarso Vabbè ci penserò Off camera Ho anche lord helix Ah Ho pure aerodacti Non lo so So solo che Cosa continuo a fare Dove per forza fare Lo sto ponte a braccio Cosa? Dove per forza fare Lo sto ponte a braccio Che ponte a braccio? Questo qua È il ponte a braccio Per arrivare al ponte baccoso Ah il bosco baccoso Eh c'è il ponte a braccio Persian Primo incontro È bello catturo Però anche a livello 40 Non è niente male Se la natura è buona Ci faccio un pensierino Però ce l'ho le ball Ho solo 6 pokeball Ma dai Però c'è la master ball Posso usare la master ball Ma perché devi usare la master ball Su un cazzo di Oddio Che non riesco a catturarlo Con le pokeball Mi è morto Non ci serve a niente Mi è morto 9 code Tanto non è vero Perché non ho sentito Il coso di È morto Ok l'ho preso con la pokeball Noi sta un attimo Una vede un attimo Lì se le spumarine va Aspetta percorso 20 Va bene Persian come lo chiamo Lo chiamo Giovanni No solo Giovanni Sì ma dai Ma mi è morto Il più forte della squadra Praticamente Dopo Blaze Era una delle mie speranze Cioè Natura furba Non fa niente Mi pare furba È furba È furba infatti Morso giorno paga Finta stridio Non è per niente forte A me non ti paga pure Il giorno ti paga Eh certo Dai ma che palde Che palde Le spumarine Non possono anche prendere un incanto Perché sono solo Zubat e Golbat Ma non me ne frega niente Neanche un Geodude Uno Slowpoke Mi è morto Dragon Ho uno Slowpoke Lui era il mio più forte Allora prenditi uno Slowpoke Sì non potrà sostituire un Dragon Mega Slow bro È fortissimo bro Dai ma non è possibile Un incubo Questi Mack Chi è che mi ha ucciso Tre Pokémon Tutti e tre Uccisi da Aspetta 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 che lo dite voi Da Mack Proprio sì No è vero Però se ci pensi Mack mi ha ucciso Sia Mimien Che Che Orlux Ah E anche No però Dragon Non doveva morire Non doveva proprio Sennò stato io Ho sbagliato Intanto Preso il non counter Le spumarine Se faccio un casino Di repellenti Posso prendermi Zapdos No Uno come Zapdos Servirebbe un casino Tipo dentro Che Che Eh Quale Primo incontro Nella Come si chiama Nella Cava elettrica No Cava elettrica Unima Vabbè In quel robo Ah Vabbè Quando finisce l'isola Spumarina Stoppiamo Quando è finito? Io Sono qua Sono intanto Nel bosco Ma tanto Non è che C'è molto da fare Non andare da quella bambina Eh Dalla bambina Però Gli iscritti vogliono Che faccio tutto Nei video Quindi Allunghiamo la parte Intanto io sto un attimo A combattere gli allenatori Dell'ottava No Dai Perchè io Li avessimo fatti In una parte Unica Eh si ma Sto aspettando Scusa Ho già preso Di un counter Non è che posso rimanere fermo Per 20 minuti Eh Lo so Però Quelli là C'è Vabbè Fai come vuoi Drossi pure io Non lo so Un tipo psico Non è mai niente male E' un pedofilo Più di così Contro L'ho quasi shottato Pokeball Che cazzo Mi ha fatto psichico Mi ha levato 10 PS Oh Se finisco le pokeball Uso la master ball Eh Uso la master ball No Però forse avrei preferito Usarla su Ecco Mi ha avvelenato Express Stando per cambiare Pure loro Mi avvelenano Grazie mille A tutti Catturato con l'ultima pokeball Lui come lo chiamo Che ne saccio Lui è un tapiro Quindi chiamiamolo Mi l'ho chiamato pedofilo Vabbè Stesso soprannome Non dai Pedofilo 2 Oh ma Cristo Non so scrivere Tapiro 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 No mi è morto il mio pokemon Più forte Mi è morto Con noi Con noi ansie Psyduck Che carino Psyduck Psyduck Allora Over un antidoto Aspetta parola Oppure tipi psico Mi avvelenano Oddio Che passa Quel mac che ha fatto 66 volte Scudo acido E altre 60 miliardi Di volte Come si chiama Minimizzato Ho trovato Un etere max Devo dire che Contaglio è molto più semplice Sto bosco Contaglio si Perché avete tutte le zone Oh mi sto perdendo però Ok Anche surf Serve Di palle Oppure vabbè O surf Oppure vai a fare le cose Vabbè tanto ce l'ho surf Eccola qui la bambina Aiuto Aiuto Sì 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 Aiuto Aiuto bitch Ah cioè mi sfida Come un ipno Sarebbe il pedofilo Perché sta a dire Arriva Arriva Nooo Che sta succedendo Perché in pratica Sarà Perché in pratica L'ipno se l'è inculata E quindi poi sta Sta arrivando Sta arrivando Uccidilo Sì devo Stare attento Che qui Oramai rischio con tutti Potevo catturarlo Per caso L'ipno Nemmeno al primo incontro No perché sarebbe stato Ragazzi mi hai salvata Prenditi un po' di bacche Non le voglio Una bacca paia Le dà 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 Prossimo episodio Tour speciale Nella torre pokemon Credo sia abbastanza Come nella torre pokemon No scherzo Andrò nella torre pokemon Prima di affrontare La palestra Pregherò un po' I miei tre pokemon Non è che sono come te Che non è morto nessuno Che vuoi da la vita Scusa Io ho dei morti Sulla coscienza Eh io no Ah se ci fosse Ratico Eh se ci fosse Quello sarebbe stato Il mio primo morto Però guarda Raticchetta Delle potenzialità Poi ragazzi Scrivete nei commenti Se volete vedere Il mio Neppy In squadra Perché comunque C'era Malaga Ho scritto Che volete Neppy Però visto che Non potevo Non potevo fare Le volbe In Gengar Stavo pensando Di usare i trucchi Per prendere Gengar E metterli in squadra Quindi scrivete nei commenti Se potete Usare i trucchi Per prendere Gengar E metterli in squadra Capito Diciamo che ho un bel team Anch'io ho un Mac in squadra Forse lo metto Ho un Mac Tanto è arrivata La nonna Di Alegame Scommetto Perché ha messo il muto Comunque ragazzi In squadra sono i Pokemon Se volete Che aggiungo Qualche altro Pokemon in squadra Al posto di qualcuno Neppy Lo volevo aggiungere Al posto di qualcun altro Per esempio di Al posto di Sandslash È arrivata la nonna Cosa? È arrivata la nonna Possiamo finire l'episodio? Ale Ale Sì ci sono Possiamo finire l'episodio? Sì sì Sono qualche guarda Wallbox Oppure sei ancora depresso Per la morte del tuo Pokemon Sono sempre depresso Dai mi serviva troppo Perché Comunque ragazzi Questo è tutto Da Dragon Era Morto Ci vediamo al prossimo video Bella ragazzi Ciao